Ciao, ti sarà sicuramente capitato nella tua vita che in alcuni momenti proprio le cose ti sembra che arrivino come per magia. Tu pensi a qualcosa e proprio quella cosa si manifesta immediatamente o velocemente. Ebbene, questo è dovuto alla tua vibrazione e anche alla tua congruenza con le tue intenzioni. Proprio ieri sono stata alla Sacra di San Michele e sono particolarmente connessa all'Arcangelo Michele in questi giorni, che è sempre stata un po' una delle mie principali guide, ma in questo momento è quella che contatteremo per fare un piccolo lavoro insieme. Quando tu hai le vibrazioni particolarmente elevate, il tuo livello di attrazione, proprio delle cose che chiedi, che sono ovviamente in armonia con quello che è il tuo scopo supremo, è maggiore. E faremo proprio un piccolo lavoro per innalzare le tue vibrazioni. Sei pronto? Molto bene. Allora inizia chiudendo gli occhi. Chiudi proprio gli occhi, fai un bel respiro profondo. Se hai le gambe incrociate, ti suggerisco di disaccavallarle e magari di appoggiare i piedi all'interno. Fai un bel respiro e permettiti di entrare nella vibrazione che si sta attivando proprio ora. È una vibrazione che parte dalla terra e ti avvolge completamente. Respira e senti come questa vibrazione sta già aumentando il livello delle tue vibrazioni. È come se dei raggi di luce, delle onde di luce, nascessero dalla terra, avvolgessero e attraversassero tutto il tuo essere per cambiarne la vibrazione profondamente. E' proprio come se questa vibrazione spostasse letteralmente le tue cellule, le molecole del tuo corpo per andare a smuovere quelle resistenze, quei pensieri, quelle forme pensiero che i tuoi pensieri magari non propriamente positivi hanno creato. E ora arriva l'arcangelo Michele che con la sua spada di luce indirizza un laser di luce esattamente nelle zone in cui esistono queste resistenze che non ti permettono di vibrare al massimo livello possibile. E se ti apri a sentire questa vibrazione potresti cominciare a sentire vibrare alcune parti del tuo corpo o l'energia del tuo campo energetico, proprio in alcuni punti. Questo laser dell'arcangelo Michele si sposta esattamente dove tu ne hai bisogno. E tu semplicemente lascialo fare, abbi fede, continua a respirare. Accogli il suo aiuto e senti come la tua energia si trasforma naturalmente. Respira e lascia andare. E ora senti come pian piano la tua energia si eleva ed il contatto con la fonte avviene naturalmente. Esiste un punto di contatto tra la tua energia che si eleva e l'energia della fonte. Questo punto è qualche metro sopra di te. E più la tua energia si eleverà, più questo punto sarà in direzione della fonte. Più questo punto sarà vicino alla direzione da cui la fonte si connette con te. E più la tua manifestazione sarà elevata. Ora respira. E ringrazio l'arcangelo Michele e la fonte e la terra che ti hanno aiutato in questa trasformazione. E puoi ripetere questo esercizio tutti i giorni, anche più volte al giorno. Perché è un esercizio molto semplice e veloce che ti permette proprio di connetterti alle energie che ti possono aiutare. Non solo per quanto riguarda la manifestazione, ma proprio per sentirti bene in tutte le situazioni della tua vita. Anche se dovessi avere un'esperienza particolare, come un incontro di lavoro con una persona a cui tieni, questo può esserti molto molto d'aiuto. A presto, ciao!